Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova posseggiata Questo video sta venendo registrato da Ziano di oggi a Rifugio Torre di Pisa Adesso prendiamo la funevia, andiamo su fino alla Oggi Outfit Montanaro Cosa c'è da dire il buon vecchio Natra? E sono lì Musica 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 e adesso sono un arcello Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ci finisce qui. Alla prossima. È stata una bella campionata.